Siamo nel teatro anatomico dell'Università di Padova, un luogo iconico, evocativo, ricco di storia, di scienze e di cultura, che dal 1595 veniva usato per lo studio e l'insegnamento dell'anatomia. Qui, in questo periodo, grazie ai maestri come Andrea Vesaglio, Gabriele Falloppio e Girolamo Fabrice d'Acqua Pendente, che è il progettista di questo teatro, l'anatomia padovana raggiunse il suo massimo splendore. Non poteva esserci il luogo migliore all'interno dell'Università di Padova, che quest'anno compie 800 anni per presentarvi Rete Eventi, una rassegna della provincia che coinvolge 65 comuni con più di 400 eventi nelle piazze e nelle salve del territorio padovano. Uno straordinario teatro diffuso di iniziative culturali, spettacoli, concerti, un calidoscopio di immagini, di emozioni che vogliono rappresentare ancora una volta la vivacità e la bellezza della nostra terra. Un'edizione straordinaria a frutto della collaborazione tra la provincia di Padova, la regione del Verde e la fondazione Cassa di Spalme di Padova e Ruvino. Questo luogo magico e straordinario vorrei essere il suggello per questa rassegna alla quale vi invito davvero a partecipare. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!